due fabbri e un carretto ma via continuo il cammino il cinematografo gira e non mi dà riposo dopo la macchia della tavola dove si abbandona la valle del crati ecco la salita di tarsia il paese è 150 metri più su pittorescamente assiso sulla cima di un cono di arenaria cinerea sul quale la strada si arrampica come un serpente su di un albero dal verde della pianura emerge il bianchissimo colle vivo ed allegro nella festa del sole dargeggiante man mano che salgo a fatica i sentieri da capre che intersecano il poggio fra braccio e braccio dei turnichè si popolano di vispi ragazzi che gridano a squarciagola la ferrovia la ferrovia passo sotto il paese formicolante di curiosi che mi osservano stupiti più avanti vedo la traccia di una fonte la seguo e arrivo alla povera fontana mi fermo a mangiare pane e zucchero col condimento prezioso dell'acqua arrivano di corsa tra felati due giovani fabbri che stanno trasognati a toccare e contemplare la macchina la gomma par loro di pesce al tatto li colpisce la sottigliezza dei raggi non riesco a spiegar loro l'appoggio dei perni sulle sfere l'idea torna ad essi troppo nuova chiamano briglie il manubrio dico loro di alzare la ruota davanti tenendo il manubrio sollevato e le faccio girare rapidamente prima si smascellano dalle risa vedendo quanto è scorrevole ma poi siccome non si ferma mai si fanno seri e posano la macchina prima che la ruota cessi di girare con un'aria interdetta in fondo credo vi debbono trovare qualcosa di diabolico parto e continuo a salire il panorama si fa più vasto non conosco paese come questo dove ad ogni mezz'ora la scena muti e dove lo scenografo abbia tante risorse di novità nel disegno e nel colore tocco i 400 metri e mi dirigo in dolce discesa verso spezzano albanese un carretto con un povero mulo e cinque persone sopra corre davanti a me avverto perché sorveglino la bestia ma non se ne danno per intesi non sanno neppure che i muli si spaventano con la bicicletta invece gridano e sghignazzano allegramente nel vedermi passare a fianco ma dietro di me odio il mulo restato un momento indeciso lanciarsi a un galoppo scomposto mi arrivano delle gride di spavento un urlo di donna poi un tonfo sordo mi volto il carretto rovesciato in un piccolo fosso sul fianco della strada col mulo e le persone al rifascio mi viene freddo ma che fare mi fermo scendo di sella e torno indietro pronto ad adoperare a seconda le parole calmanti o il revolver per difendermi chi lo avrebbe pensato quella buona gente visto che nulla c'era di rotto né carro né bestia né persone neppure inveiscono con male parole ma si contentano di guardarmi trasognate come a dire ma che diavoleria c'è capitata e noi diciamo che i briganti sono in calabria ciclisti se un caso simile mi fosse capitato tra milano e monza di rotto né una un saluto di rotto né un saluto di rotto né che sto